Nuova donazione multiorgano all'ospedale Lorenzo Bonomo di Andria. Il gesto d'amore di un 75enne di Barletta, deceduto nell'osocomio andriese e che ha donato cuore, fegato e reni. Una volontà che l'uomo aveva espresso chiaramente quando era in vita e pienamente sostenuta dai suoi familiari. Due le chip sanitarie che si sono alternate nelle sale operatorie del Bonomo dirette dal dottor Nicola Di Venosa. Quella del vicino policlinico di Bari ha prelevato cuore e fegato, una seconda arrivata dal policlinico Riuniti di Foggia, ha prelevato invece i reni del donatore. A dare supporto a tutte le operazioni il personale medico dell'ospedale di Andria. Tutti gli organi, fanno sapere dell'azienda sanitaria, sono stati già trapiantati con successo. Un ringraziamento al 75enne Barlettano e ai suoi familiari per la sensibilità dimostrata è stato espresso dalla direttrice generale della Asla BT, Tiziana Di Matteo. Gli organi del donatore hanno regalato vita e speranza e noi speriamo che tutto questo sia di aiuto alla famiglia dell'uomo per affrontare e gestire il dolore della perdita. Si tratta del sesto prelievo multiorgano eseguito nell'azienda sanitaria della provincia di Barletta Andrea Trani dall'inizio del 2024.